Ben ritrovati gentili amici del canale YouTube Gianluca Rossi TV, scaricate l'app numero 10 dal link in descrizione su questo video, ci vedremo in live venerdì alle 19 alla vigilia di Inter Torino, cos'è sto entusiasmo? Infatti volevo solo esaurire i saluti e poi partire insomma col solito funerale sull'Inter. No ragazzi allora seriamente pagellacce e parolacce ancora una volta, adesso le vediamo brevemente, però non era questa la partita in cui pensavo ad una svolta. Certo ci sarebbe piaciuto moltissimo vivere una serata tipo Napoli-Liverpool, no? 4-1 è quanto ci sarebbe piaciuto, però ritengo che in questo momento a livello di morale, di condizione non siamo in grado di fare quella roba lì, purtroppo non siamo in grado di fare quella roba lì, dobbiamo accettarlo e questa partita non ha aggiunto, se devo essere molto sincero, voglio essere molto sincero con voi, non mi ha aggiunto preoccupazioni, magari a voi sì, a me no. Per me la partita col Bayern restava ingiocabile in queste condizioni per come siamo messi in questo periodo a livello fisico, a livello mentale, a livello di cappoccia e infatti era ingiocabile ed è stata ingiocata. Certo ci si aspettava dal punto di vista magari mentale di vedere qualcosa in più, ma forse a inizio ripresa rivedendolo magari qualcosa in più l'abbiamo anche visto, no? Però non è questa la partita che deve dare risposte. Il campionato dell'Inter deve iniziare con Inter-Torino, sabato e poi con Udinese-Inter, sono due squadre che adesso insomma non ci sono più alibi, perché se in questo momento non siamo pronti con la Lazio nemmeno per il Milan, come abbiamo visto, infatti abbiamo beccato tre gol dall'una e dall'altra e con lo Spezia e con la Cremonese è troppo facile per dare un giudizio e col Bayern è ingiocabile, va bene, adesso arrivano Inter-Torino, Udinese-Inter e in mezzo c'è Vittoria Pilsen-Inter, tra l'altro i ciechi hanno preso 5 pere dal Barcellona, altro nostro avversario, ma insomma che il giro nei Champions quest'anno sia difficile lo sapevamo già al sorteggio. Non sto abdicando, non sto assolutamente abdicando, perché io comunque col Bayern non assegno nemmeno un punto all'Inter, col Vittoria Pilsen bisogna farne 6, cioè vincere fuori e vincere in casa e poi col Barcellona me la voglio giocare, santo Dio, almeno fatemela giocare prima di dire che finirà come le due col Bayern, me le voglio giocare. Allora, le pagelle, beh le pagelle sono brutte, io non ho condiviso la rivoluzione, l'ho già detto in settimana che ha voluto fare Inzaghi, non tanto sul portiere perché il portiere ormai mi sembra improponibile, ormai la gente ha deciso che Andanovi c'è il primo vero grande colpevole di questo pessimo avvio stagionale, a me sembra che i gol che ha preso Onana siano molto simili a quelli che ha preso Andanovi, cioè praticamente inerme davanti a giocatori che possono soltanto metterglielo alle spalle il pallone, però per carità di Dio non voglio riaprire questa cosa. Non riesco a capire però perché Inzaghi a fine partita dica col Torino torna Andanovi, cioè secondo me è sbagliato, magari non l'avrei fatto con il Bayern, il cambio, nemmeno del portiere, però posso capire che quello si può fare, non avrei fatto tutti gli altri cambi che sono stati fatti, cioè D'Ambrosio inserito, quindi Spesato De Vrij, quindi Punito Barella, quindi dentro Mkhitaryan, quindi Gossens dal primo minuto e non più l'alternanza di Marco D'Armian, tutte cose che io ho proposto, quindi badate bene, le ho proposte io, però le avrei fatte scattare questa mezza rivoluzione, io l'avrei fatta scattare con Inter Torino, anche perché adesso sappiamo come sono i nostri tifosi, adesso perdi certezze, voglio dire anche su quelli che hai visto e che erano quelli che teoricamente avrebbero dovuto darti qualcosa in più. Però ragazzi, adesso però se facciamo un passo poi torniamo indietro, poi rifacciamo un altro passo, mi va benissimo il turnover utilizzare il completo la rosa, però io avrei assegnato in una partita ingiocabile come quella col Bayern il compito di provare a riscattarsi agli stessi che hanno perso Lazio-Inter e il derby, io avrei fatto così, Inzaghi ha deciso di non fare così, di coinvolgere altri, resta il fatto che il risultato non è cambiato, sono tre sconfitte nelle ultime quattro partite e torno a dire quella del Bayern non mi ha preoccupato. Allora, pagellacce dicevo, sì, pagellacce e parolacce come si può dire, no? Onana al di là della frittata nel secondo tempo che mi ha ricordato Pagliuca usa 94 perché se poi su quel cross di Kim è deviato da bastoni, lui ci va con le dita un po' molli, resta il fatto che il pallone va a sbattere sul palo, fosse entrato in porta era il disastro ferroviario anche nella considerazione suonana, per il resto invece è stato bombardato da ogni parte, incolpevole sui gol, ha risposto bene, ha visto delle buone parate, un'ottima reattività, questo sì, assolutamente e quindi almeno sei e mezzo glielo do. Skriniar finché è stato sostituito è andato in bambola all'inizio come tutti gli altri, però mi pareva poi che a un certo punto avesse preso le misure, sei di stima. Male invece poi l'ha sostituito De Vrijdo, sei anche a lui per il poco che ha giocato perché la situazione era ormai sullo 0-2, era sotto controllo e il Bayern non è che volesse per forza far la goleada. D'Ambrosio mi spiace, capitano però, troppo distante sui gol in marcatura, tanta buona volontà ma non posso che dargli 5, 5 e mezzo se volete, fate voi, anche bastoni 5 perché poi alla fine sì, non avrà magari sofferto tantissimo Coman, ma ragazzi quando ci deve essere non c'è mai a difendere e quindi mi spiace ma anche lui insufficiente. Di Marco è entrato al risultato già acquisito, insomma senza voto. Dunfries male, 5, dai, Dunfries è stato peggio alla fine anche di D'Ambrosio e se vogliamo di bastoni, quindi se diamo 5 e mezzo a quei due là, a Dunfries devo dare 5 perché non c'è capito niente di sta partita, ragazzi non c'è capito proprio niente, davvero insufficiente questa prestazione, ne aveva fatte altre buone ma questa è 5 assoluta. Darmi a ne entra quando ormai, ripeto, il Bayern non ha più nulla da dire, quindi senza voto, fate voi. Allora Mkhitaryan è partito male, poi nel secondo tempo mi pare che insomma i progetti perlomeno di occasioni dell'Inter siano partiti dai suoi piedi, per questo gli do un 6, senza infamia e senza lode, ma il 6 glielo do. Non do invece la sufficienza, male Brozovic, male Ciananoglu, tutte e due 5 perché non sono mai riusciti secondo me a fare qualcosa di utile a centrocampo, quindi 5 tutte e due confermano il momento negativo. Gagliardini è entrato, ha intercettato casualmente un pallone di Neuer, la porto a Correa che l'ha sprecato, infatti poi gli do 4, però ragazzi Gagliardini senza voto, c'è una palla che è intercettato per caso e però qualcuno dice ha fatto più Gagliardini in quegli ultimi minuti degli altri centrocampisti, ragazzi, senza voto e via. Gossens male, continua a dare indietro il pallone, però io su Gossens voglio insistere perché non mi rassegno, non mi rassegno a perderlo così, quindi gli ho un bel 5 perché non l'ho mai visto coraggioso a sinistra e quindi si becca il 5 e vi andare, però adesso lo voglio riproporre, come ho detto adesso voglio che la rivoluzione di Inzaghi con inserimenti nuovi che possono essere, ripeto, Mkhitaryan, D'Ambrosio, che ne so, lo stesso Gossens adesso comunque sia effettiva in campionato perché sono partite Torino e Udinese ma anche la stessa di Champions con Vittoria e Pinson che mi danno un'idea più completa di Gossens. D'Otaro Martinez ragazzi l'ha lasciato là da solo praticamente per 90 minuti, ho provato a sbattersi, guarda gli do 6 proprio di stima perché la solitudine è una roba brutta per un attaccante, posso dirvelo anche nei miei trascorsi da dilettante, la solitudine è una roba brutta per un attaccante e quindi gli do 6. Dzeko è stato quello che secondo me ha dimostrato più statura europea perché comunque ha lottato su ogni pallone, ci ha provato, un paio di mezza occasioni le ha avute anche, direi che è stato fondamentalmente insieme a Onana è il migliore in campo Dzeko, quindi 6 e mezzo glielo posso anche dare. Correa come detto 4 perché non puoi sprecare un'occasione che è vero nasce per caso non te l'aspetti ma lì devi girarti, hai il tempo anche di fare qualche metro in più per tirare in porta, quindi Correa veramente 4. Inzaghi posso apprezzare il coraggio però secondo me l'ha usato, quello di cambiare un po' tutto non era la partita giusta quindi devo essere fedele alla mia linea, quindi gli do 5 perché secondo me le scelte possono essere anche comprensibili, poi vabbè i cambi ormai la partita era del tutto compromessa, contano poco, però non l'avrei fatto in questa partita e quindi devo restare fedele alla mia linea. Inzaghi 5, continua a vedere delle facce drammaticamente preoccupate. Sarete preoccupati anche voi, lo so, quando venerdì alle 19 ci ritroveremo alla vigilia di Inter Torino in live chat ma io continuo a pensare che il campionato dell'Inter debba avere una sterzata, la stagione dell'Inter può ancora avere una sterzata e naturalmente deve averla con queste tre prossime partite, Inter Torino, Vittoria Pilsen Inter e Udinese Inter, sono tre partite in cui devi portare a casa 9 punti, poche balle, se no che parliamo di sterzata e speriamo insomma presto di tornare a fare un video editoriale dopo una vittoria. Ci vediamo in live chat ragazzi, venerdì a 19, andiamo, un saluto da Gianluca Rossi, a presto.